La salvia che è un classico anche della nostra cucina, in realtà ha delle proprietà di attività biologica molto interessanti. Una delle più interessanti è quella per regolare l'umore nelle donne in menopausa, quindi quando ci sono le classiche vampate di calore. Però non stanno per iniziare i dolori del parto? Lì viene utilizzata moltissimo la lavanda, perché è stato dimostrato che inalare o l'essenziale di lavanda qualche minuto prima del parto cesareo, quindi con l'intervento chirurgico, permette di abbassare i livelli di anestetico.